Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon Dì. Allora, la gnagne di Elio era la che aveva fatto di mare e lui aveva una mania di rompere i cagliere di veri, di modo che se gli capitavano un'età ce li buttavano a partire e la soddisfazione era che. Elio ci facevano, noi, quando aveva i listacci, aveva un centenario, che anzi ti dicevano ma a chi ha detto a tutti di fare sagra? No, no, diceva. E non si lamentava per il suo agno che aveva una mania lì. Anzi, al preave il Signore diceva Signor, lasciami la croce che hai perché cosa hai molto a palle. Ho voi e ho compro i taci. perché la croce che tu mi darai dopo di che qui non sai mica ce che sarà e c'è molto a palle. Biele preiere, no mo? Buone giornate e buone vite.